troppo giusti questa settimana sono stato in un ridente paesino nelle marche monte cosaro e sono andato a trovare sì carlo c'è una bella sorpresa anche per te insomma siamo andati a trovare un nostro grande amico nel senso amico perché un grande collezionista di bozzetti credo forse uno dei più grandi collezionisti al mondo di bozzetti è l'unico è l'unico guarda ti ho portato delle immagini e c'è una grande sorpresa anche per Carlo insomma vai guarda dove ci troviamo qui a casa mia a monte cosaro un paese delle marche in provincia di macerata dove alcuni anni fa ho creato questa realtà museale così per gioco e invece sembrerebbe col tempo stia prendendo diciamo sempre più importanza e valore anche a livello internazionale e qui sono esposte delle opere originali dipinte a mano come si faceva una volta dai cosiddetti cartellonisti pittori di cinema che era un po diciamo minori cinema di serie b questo disegnato non sono stati mai considerati grandi artisti e invece per me lo sono perché il cinema così rappresentato è un livello artistico superiore nel 92 quando andavo a roma per trovare i manifesti di Totò e lì ho scoperto un negozietto dei anziani che parlavano di bozzetti per me è stata veramente una scoperta dell'america la parola bozzetto era tabù da quel giorno è stata la missione della vita mia stanza verdone il penultimo ospite che è stato qui prima di gianni è stato carlo verdone a marzo dell'anno scorso e quindi a lui abbiamo dedicato questa stanza piena di memorabilia diciamo dal flipper a questo è il flipper originale deve troppo forte questi flipper originale di troppo fossi oscar 99 95 mila questo caso sono due artisti borotalco di enzo sciotti e invece un sacco bello bianco rosso verdone di renato casaro quando carlo è venuto qua che c'è stata l'emozione pure per lui credo è sì perché lui era molto curioso di avere gli originali perché lui ha tutte le lucandine sui film ma non si poteva rendere conto che potessero esistere gli originali perché lui si ricorda quando venivano creati e mi ha raccontato un particolare proprio bianco rosso verdone dell'errore che fece casaro clamoroso nella maglia lei l'hai notato sì cioè la maglia mimmo non è il personaggio quello è sbagliato mimmo e l'altro quello con la maglia gialla non con la maglia bianca l'altro è a metrano dove scritto mimmo ok e tu e sai cosa mi ha detto paolo questo è un gronchi rosa è stato il verdone dei la montecosti è stata veramente un bagno di folla di 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 affetto veramente mi sono commosso perché non ho mai visto una persona così così rispettosa della storia del cinema della commedia ma non solo quest'uomo ma tu l'hai visto cia cia mille e trecento bozzetti ma salvando una cosa ormai scomparsa veramente veramente incredibile si fanno più ed erano tanto belli però è perché perché oggi addirittura pensa zalone non ha fatto niente nel suo film nel trailer nel manifesto né niente non esistono i flani non esistono più i flani l'unico l'abbiamo fatto noi su qualche quotidiano delle opere d'arte dell'aurentis che ancora però non è cambiato tutto ed è un peccato perché è la poesia ma andiamo a vedere se i film in sala questa settimana che vi sfideranno magari in giro per la città hanno qualche flano qualche buzzetto si sa mai vedi che attacco che ho fatto da professionista belli freschi troppo giusti